togliamo la musica so ragazzi che vi piace molto avere la musica di sottofondo ma purtroppo per rendere possibile guardare questo gameplay anche cioè questa analisi gameplay anche post stream dobbiamo togliere la musica perché se no ci arriva un copyright strike grosso come la chiesa ma c'è pesante con le critiche cazzo fai cagare sono ammarta ma cazzo fai vissare minion cazzo tutto schiposo disinstalla ok più veloce con le trappole sui grab mi raccomando tanto lo vedi già che il tuo support sta tirando il grab ok quando il tuo support carica il grab tu devi essere pronto a metterci sotto la trappola se vuoi giocare a caedrine ovviamente è una roba importante vai trappola ok ok muoviti di più muoviti di più qui hai mangiato una kill ok allora questa è una cosa che ho notato prima e che in effetti è esattamente come temevo allora prima cosa uno dove è pike dove sei tu sei lontanissimo da pike non sei per nulla in parallelo con lui trash aveva appena utilizzato il grab sulla wave me lo ricordo ha utilizzato qua che l'ha schivato andando detroit minion quindi trash non ha il grab questo vuol dire che se tu stai in questa zona ok non cambia niente da stare in questa zona o qua la tua grande differenza la grande differenza tra il posizionarti un po' più avanti è che riesci a followare meglio l'ingage di pike vi ricordo ragazzi ne abbiamo parlato un miliardo di volte questa cosa veramente un miliardo di volte il parallelismo col support stare in una linea in parallelo col support di solito la linea parallela deve essere obliqua cioè che taglia a metà la mappa ok cioè la linea di riflesso della mappa però non si può sempre rispettare questa cosa ad esempio in questo momento non potrebbe stare perfettamente in parallelo ma stare ad esempio in questa posizione più vicino ti aiuterebbe molto a followare quello che è l'ingage di pike ho paura della ed trash ed jinx no no tu non devi avere paura della ed trash perché la ed trash ha un range che è basso ok il range della ed trash è basso lui non può avvicinarsi a te senza camminare un bel po' e tu puoi benissimo kaitare e allontanarti o comunque semplicemente allontanarti anche senza attaccarlo oltre al fatto che uno puoi cercare di colpirlo perché in questa posizione è troppo avanti e quindi merita di essere colpito almeno per l'overextend due jinx se deve tirare le granate e trash a tirarti indietro è una combo diciamo telefonata perché jinx deve tirare le granate prima che tu venga tirato indietro da trash se no se le tira dopo è molto più facile che tu le flash oppure semplicemente non ci arrivi sopra ok cioè comunque non ti devi scusare non ti preoccupare non è questo stiamo torniamo al parallelismo stare più vicino ti permetteva di ingaggiare prima jinx ma continuiamo non importa allora il support ovviamente fa un errore perché questo qui di trash è un errore ragazzi ricordatevelo se siete support il vostro obiettivo non è stare di fianco alla di carry e appunto lastitare i minion per lui con l'oggettino da support oppure grabbare qualcuno o roba del genere in questa situazione dove jinx era fuori posizione molto trash dovrebbe essere stato qua cioè in questo punto in modo da frapporsi tra jinx e pike per bloccare il grab di pike in questo modo non solo bloccava il grab di pike su jinx che comunque è un ottimo modo per pike di ingaggiare ma in più era così vicino che se pike avesse utilizzato la e per bloccarlo la doveva utilizzare verso l'indietro cioè doveva utilizzarla da questa parte in questa direzione questo voleva dire che anche se dopo essere stato grabbato e stunnato dalla lady pike pike si ritrovava lontanissimo e non poteva fare altro danno al proprio di carry oltre al fatto che jinx poteva poi zonare katie con le bombe quindi ricordatevi ragazzi giocare support vuol dire anche delle volte tankare qualcosa per il vostro di carry per permettere di non ricevere danno se la di carry riceve danno ed è costretto a recollare perdete tutta la pressure in lane perché non c'è più lui a farmare ok stessa cosa per voi anche voi se ricevete tanto danno è così ma giocando un support di solito siete molto più tank della di carry e soprattutto qui quello che era più importante era il positioning di trash che era molto più vicino a pike ma se che il support fa un ingaggio sbagliato bisogna seguire localmente no no salvarchi no e questo ne parliamo una volta finito questo discorso ok una volta finito questo discorso parliamo del non seguire mai un support che fa un engage sbagliato e come capire quando un engage è sbagliato vedete che adesso non solo trash non si è fatto grabbare ma è stato stunnato anche lui da Harry pike che giustamente era in in range per poterla fare allora cosa hai sbagliato in questa situazione non soltanto il positioning troppo lontano da pike non soltanto l'averci messo troppo a seguirlo ma anche essere andato troppo lento cioè non aver non esserti mosso tra un attacco e l'altro guarda guarda intanto ci hai messo tantissimo a capire l'hai capito attacco base vedi sei rimasto fermo questo momento questo momento dove sei rimasto fermo tra un attacco e l'altro e poi hai tirato la Q non deve succedere non deve succedere cioè quando giocate a di carry ragazzi dovete contare che il movimento non serve soltanto per kaitare ma serve anche per inseguire se voi continuate ad autoattaccare un nemico a massimo range quando questo fa un passo indietro non ci arrivate più a colpirlo tu in questo momento devi fare autoattacco camminato in avanti autoattacco camminato in avanti Q allora a quel punto tu invece che qui saresti stato qua non avresti dovuto flashare per cercare di followare vedi che sei ancora sei stato ancora fermo ti sei cominciato a muovere quando Jinx è uscita dal tuo range hai dovuto flashare e una volta flashata cosa potevi fare niente perché tanto non avevi più i danni per uccidere nessuno e la E non potevi utilizzarla su Jinx quella E soprattutto non avresti dovuto attirarla perché continuando ad attaccare Jinx avevi forse qualche possibilità di ucciderla magari se non si fosse mossa verso l'indietro se avesse tergiversato troppo ma comunque no oh cazzo il microfono ogni volta ti tiro delle manate stai dormendo salottino hai flashato sembrava che avessi flashato ok no sembra di no flash c'è in cooldown comunque stai dormendo attualmente perché questa è la seconda kill che ti passa davanti agli occhi questa proprio passata avanti agli occhi non l'hai la stizzata perché stai farmando questo bike ti sta dando tante possibilità però va bene ci sta nel senso siamo qui per scoprire i tuoi errori e imparare tutti insieme ok anche questa cosa tipo i mi non fanno tanto danno va bene cercare di poccare una di carry ok però quando ci sono quando c'è una wave intera di minion che si sta avvicinando a te e non ci sono tuoi minion che possono tankarli cercare di avvicinarsi da di carry nemico per tirare un attacco base non ne vale la pena cioè ricevi tanti danni no allora salottino questo è un errore tu mi dici giustamente tu mi dici do molta priorità al farm è molto importante da di carry riuscire a farmare bene e continuare a farmare a farmare bene per tutta la partita guardiamo hai 67 di farm a 8 minuti e 30 insomma è un gran bel farm per adesso e spero che tu riesca a mantenerlo così bene per tutta la partita il fatto è che da di carry priorizzare il farm il farm è sbagliato se lo fai al posto di seguire cool engage o roba del genere del tuo team soprattutto se sono corretti nel senso ok si perde in mid game normalissimo lo succede a tutti nel senso killare dei minion mentre il tuo support grabba o sta tirando il grab su la botte nemica o mentre il tuo jungler cerca di gankarti o roba del genere è un errore molto grosso perché una kill vale molto di più dei minion ok e per quanto io vi dica sempre che il farm è molto più sicuro di cercare di prendere una kill quindi giocare iper aggressivo delle volte non va bene è anche vero che se voi non date nessuna possibilità al vostro team di riuscire a prendere delle kill cioè giocate in modo iper passivo e tentate soltanto di farmare i minion per alzarvi il il creep score cioè per alzarvi lo score dei cs non ha senso perdete un sacco di potenziale rovinate la partita del team rovinate i gang del vostro jungler gli engage del vostro support perdete potenziale non va bene ok mi raccomando saluttino cioè piuttosto farma 50 minion in meno la partita se followi bene call engage e robe del genere vanno bene anche 50 minion in meno in partita perché se tu impari a fare il tuo durante il game è molto più importante rispetto al cercare di avere un buon un buon creep score ok cioè tu devi avere un buon farm perché sei bravo a farmare non perché farmi anche mentre gli altri fanno engage se tu riesci ad ottenere un buon farm ma non segui engage o call è come avere un brutto farm anzi peggio è come avere un brutto farm e in più non hai seguito le call che è molto peggio devi avere un brutto farm e basta ok mi raccomando io avrei tirato prima la E lì prima del tuo flash però va bene ranna ok qui abbiamo un piccolo problema leggiamo intanto quello che dice trafale poi continuiamo io non capisco mai dove devo andare quando mi prendono o prendo la torre si sono bronzina sfigato finita la link phase dove devo andare farmare sono DC main allora quando tu distruggi la torre in bot lane devi cercare di andare in mid lane per romper la torre della mid lane oppure allo stesso modo puoi andare in top lane invece per cercare di prendere la torre top lane e poi prendere l'herald se rompono la torre a te puoi fare puoi rimanere nella tua lane e cercare di farmare con la torre rotta il che può essere utile come no puoi cercare di andare nella lane dove si è spostata l'altra bot lane per riuscire a controbilanciare il fatto che si sono uniti altri due campioni in quella lane oppure hanno swappato lane e quindi qualcuno si trova in svantaggio perché si ritrova due campioni quando prima ce n'era uno e basta cioè sono queste due le opzioni l'importante è che riesci a farmare comunque da di carry è quello il fatto controlla anche se ci sono obiettivi up tipo drago o herald muoviti di conseguenza si anche quello è importante bravo allora qui vediamo un piccolo errore che tipo affligge la maggior parte delle persone che cominciano a giocare a di carry sanno giocare un po' sanno kaitare e di conseguenza spam kaitano questo si chiama spam kaitare ragazzi spam kaitare vuol dire quando è quella situazione in cui una persona kaita anche quando non è necessario kaitare anzi quando è sbagliato kaitare ad esempio qui c'è tutto il team avversario il tuo yasu è morto sicuro 100% morto e voi siete in 3 e orn è in top lane senza il tp questo vuol dire che questa situazione tra tipo mezzo culo secondo diventa un 5v3 5v3 vuol dire che è perso sicuramente cosa vuol dire adesso che tu non è che ti giri con kaitare e cominci a sparare no ti infili il fucile nel buco del culo e cominci a sparare per aumentare la tua velocità di movimento no però così ve l'ho messa un po' strana perché dopo pensate che dovete attaccare nel senso che sparare per cercare di muovervi più veloce per reazione insomma inutile non attaccare cioè prendi ti metti il fucile in culo ti giri e te ne vai fine cioè questa questa situazione in questo momento sto qui è più morto di un morto stramorto di un morto ok questo è extra morto questo tipo è morto qui con kaitare prendi te ne vai basta hai già utilizzato il flash hai già utilizzato lei qui ci spari due trappole se ti va bene tanto per fare il giro più lungo e sperare che non ti arrivi in culo l'ascia di 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 darius e te ne vai basta invece un attacco base va bene hai capito quello hai capito ezza ezza l'avevi capito qualche seno viene andare ma cosa è successo hai di nuovo provato a kaitare perché perché hai fatto una cazzata quindi capisci questo è lo spam kaiting cioè cercare di kaitare lo stesso anche nel momento in cui è sbagliato ah si nice boy nice molto bene sono stati tutti tutti atterrati dal giveaway del discord però vabbè ciao breaker ancora spam kaiting che cerca di attaccarlo questo è un darius appena ti vede ti infila il palo nel culo e muori allora qualcuno di voi riconosce questa situazione cioè durante la stream quante volte mi avete visto essere in questa situazione e dire una parola una frase perché non era una parola una frase specialmente una frase dico sempre una frase quando sono in questa situazione prima di vedere il darius dico sempre una frase la dirò tipo venti volte a stream tutte le volte che sono in questa situazione io vi dico una frase ragazzi vi dico sto intando tutte le volte io vi dico sto intando ok perché sto intando dico perché non c'è un cazzo di vision da nessuna parte cioè potrebbe arrivare Gesù da qua da qui potrebbe uscire Gesù voi non sapete cosa c'è qui potrebbe uscire Gesù arriva gli fa il padre nostro e via e poi se ne torna in giungla potrebbe uscire di tutto da queste parti della giungla di tutto ok questo per questo io dico sto intando perché potrebbe uscire qualunque cosa da queste parti della giungla sei un po' più coverato da questa parte sei sicuro che nessuno passi da questo punto per prenderti da questa parte ma potrebbe esserci qualcuno qua dietro potrebbe esserci qualcuno che era dentro la tua jungle qua potrebbe esserci qualcuno che sta facendo il giro di qui qualcuno che arrivava da qua oppure qualcuno che come Dario sta arrivando qua cosa vuol dire questo che una volta farmati quei minion che cerchi di farmare nella sicurezza più assoluta prendi e te ne vai dove vai salottino dove vai vediamo se salottino lo sa dov'è che vai salottino dopo aver preso i minion no no non in base salottino a fanculo vai direttamente a fanculo dopo quei minion vai a fanculo cioè ad esempio dopo questi minion qui non c'è niente da fare stavano facendo il l'herald quindi non potevi fare nulla ad esempio in questa situazione potevi semplicemente aspettare che arrivi la wave dopo o che qualcuno che le rasse questa wave oppure tornare in base e spendere i 0 gold che c'avevi no avevi 980 gold tornavi in base vendevi la pozza e compravi altri oggetti oppure chiudevi altri oggetti insomma non overextendare questo overextending ragazzi e non solo ripeto questo qui è inutile che te lo dica indovina che cosa hai fatto qua spam kiting hai cercato di colpire lo stesso un darius quando questo qui con due attacchi uno schiaffo in testa e un rutto ti ha portato a casa capite che questa cosa non è possibile riuscire a tirarci fuori qualcosa di decente ok guardiamolo al rallentatore che voglio vedere che cosa utilizzi e come lo utilizzi bella la trappola ci sta bruttissima la E non dovevi utilizzarla stai attento la E è uno delle la E ragazzi ricordatevi che è la spell di Katelyn per uscire ad allontanarsi è un campione che cerca di ingaggiarla soprattutto se gli aranna in faccia non sprecatela qualcuno deve arrivare sicuramente verso di voi Rammus non penso che puntasse a te in quel momento visto che voleva arrivare dentro Peter Baron e del drago per stilarlo ok quindi ricontinuiamo con il tuo bellissimo replay va bene cosa fai adesso dopo che il drago è stato preso i tuoi tre amici stanno facendo una bellissima gangbang sul jungler avversario e soprattutto cosa di poco conto ragazzi ma che non so sarà magari l'occhio del platino oppure il fatto che gioco a lol da tanto non so ho notato tipo un Darius incazzato qua che vuole il tuo sangue ed è pronto a bere anche quello che ti esce durante il ciclo mensile secondo te qual è la mossa migliore a continuare a picchiare quel Rammus b cercare di picchiare Darius c scappare a gambe levate urlando cazzo e altre bestemmie ve lo dico ragazzi la risposta corretta è la colpire Rammus che super tanker riuscirà a rimanere lì per mezz'ora ovviamente la risposta corretta ragazzi è Darius scappare da Darius cazzo scappare da Darius quando vedete Darius con Ghost non vuol dire essere fottuti vi scoppia ad esempio in questo caso scappare da un Darius con Ghost è molto difficile se cerchi di andare in Midland ok anzi quasi impossibile perché sicuramente lui riuscirà ad arrivare dove stai andando tu perché è un Ghost ovviamente qual è la tua opzione ad esempio entrare dentro il pit se tu entri dentro il pit dove ci sono altri tre dei tuoi compagni dopo che loro hanno killato Rammus killeranno Darius se proprio Darius riesce a raggiungerti non avrà comunque la possibilità di scappare perché gli altri tre membri del tuo team potranno killarlo come stavi ad esempio facendo adesso ma dovevi farlo prima prima di attaccarlo prima di cercare di fare tutte queste robe prima di fare il passo indietro per posizionare quella quella trappola perché ad esempio il motivo per cui ti ho chiesto dello smartcast è perché quella trappola ti ha fatto fare il passo indietro perché hai appunto il cast lento e quindi hai sminchiato un po' il tuo positioning allora ragazzi vi faccio rivedere l'azione e mi dite che cosa avrebbe dovuto fare lui per evitare questa morte che a parer mio era evitabile vi lascio anche la visione di tutti i due i team che vi facilita la cosa lentamente prima cosa qua rannare basta corretto qui c'è il primo errore cioè tu hai messo il movimento fino a questo punto e una volta arrivato hai messo la trappola sbagliatissimo tu devi utilizzare le spell mentre sei in movimento in modo che il personaggio si blocchi soltanto per mettere la spell guarda quanto tempo sprechi da fermo in 0,25 è ancora più peso vederlo guarda guarda eh tac fermo guarda quanto si muovono i tuoi compagni hai perso un bel po' a fare questa cosa comunque questa trappola potevi anche non metterla potevi metterla ci sa ha comunque ha comunque fatto il suo cioè zonare parte del team avversario va bene la apprezzo allora arriva Rammus Rammus cosa fa? Rammus deve arrivare contro il primo campione che colpisce e lo blocca e poi di solito lo taunta il tuo obiettivo cos'è quindi? sei vicino a Orn semplicemente stare attaccato da Orn superarlo e andartene quindi cosa vuol dire che se Rammus si avvicina tu utilizzi la E per arrivare dietro a Orn sloware Rammus e invece che farla da questa parte che è sbagliatissimo perché tutto il team avversario sta arrivando qua per chiuderti la utilizzi da questa parte che non c'è nessuno non c'è nessuno qua che ti può prendere vedete che casino che fa questo Rammus se tu avessi utilizzato la E a questo punto di qui cioè per scappare di qua non avresti avuto nessun problema se anche Rammus dopo che tu avevi utilizzato la E se anche Rammus avesse schivato Orn per arrivare fino a te sarebbe arrivato qua a prenderti cosa vuol dire che è in una posizione di super svantaggio rispetto al tuo team perché il tuo team è tutto concentrato su di lui poi se il suo team riesce a followerlo bene ma tu qui ti sei messo in una posizione sbagliatissima perché il suo team avversario ha potuto cautarti fuori posizione molto facilmente conta che questo è un errore abbastanza pesante da farti perdere il game nel senso tu con un errore del genere meriti la lost ok cioè se voi fate un errore del genere di positioning durante un fight e morite senza aver attirato neanche un attacco base allora a quel punto meritate la lost in un game del genere perché voi in fight avete fatto ancora questa Q inutile molto meglio gli attacchi base si è avvicinata troppo a Darius devi rispettare allora salottino secondo consiglio oltre al video sul positioning in lane recuperati anche quello sul positioning in fight che ho fatto sempre sul canale youtube quindi perché ti dico questo perché ovviamente è molto utile quel video perché spiega tante cose del positioning in fight cazzo sto merda di microfono ogni volta ti tiro dei cazzotti perché piccolo problema qua ok va bene quella è bravo ci sta va bene hai continuato allontanarti nonostante ci fosse Rammus bravo cioè proprio perché c'era Rammus ok già questo ci sta ti sei avvicinato anche se c'era Rammus va benissimo questo è Darius questa Q non serve come vi ho già spiegato perdete attacchi base infatti non hai preso neanche nessuno tra l'altro questo è un errore cioè tu ti sei focussato su Trash tu eri focussato su Trash in questo momento mentre ti avvicinavi perché qui sei molto più che in range di attacco per per Darius che nonostante abbia missato la sua il suo grab ti ha comunque portato a casa perché hai fatto un solo errore di positioning sei andato per Trash quando c'era di fianco Darius se fossi stato più lontano da Darius e fossi andato per Darius invece nel momento in cui si fosse giallato su di te insieme a Jinx tu potevi benissimo allontanarti ed essere poi protetto dal tuo Horn il tuo Mastery e cazzi amarsi di chi c'era lì va bene signori facciamo la piccola outro per Youtube ragazzi con questo concludiamo con questa bellissima lost concludiamo l'analisi gameplay di Nero che ha giocato una bella partita ci ha fatto vedere un sacco di cose molto importanti passate allo stream se vi è piaciuto il video della analisi gameplay mettete anche un bel mi piace se vi interessa e soprattutto condividete il video mi raccomando in stream trovate tante gente interessante come Nero che è molto simpatico e soprattutto me che sono quello più antipatico era un piccoglione della stream perfetto a un prossimo video madonna mia che brutta sta autops vabbè a un prossimo video Grazie a tutti.